L'azione dell'Italia continuerà su più fronti. Il nostro Paese, infatti, ha da tempo fatto della sicurezza alimentare una priorità della propria azione di politica estera, mettendola al centro dell'agenda internazionale. La dichiarazione G20 di Matera dello scorso anno ha segnato una svolta in tal senso. La collaborazione tra Italia e FAO ha inoltre lanciato la Food Coalition, un programma che sarà attivato anche nell'area mediterranea per i progetti che emergeranno a seguito del dialogo di oggi. In ambito G7 sosteniamo con convinzione l'Alleanza Globale per la Sicurezza Alimentare, alla quale partecipano governi, organizzazioni e istituzioni impegnate a sviluppare azioni forti e urgenti e l'iniziativa a liberare il grano per la ripresa del traffico da Odessa attraverso il Mar Nero. L'Italia è impegnata anche in ambito Nazioni Unite. Il mese scorso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione State of Global Food Insecurity sul tema della crisi alimentare e si è tenuta su iniziativa americana la Global Food Security Call to Action, alla quale ho partecipato personalmente. Le prossime settimane saranno cruciali per sbloccare la situazione. Lo voglio dire chiaramente, dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti perché bloccare le esportazioni del grano significa tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini. L'Italia continuerà ad impegnarsi in prima linea per trovare delle soluzioni e per garantire la sicurezza alimentare dei Paesi più esposti alle conseguenze del conflitto, a cominciare da quelli del Mediterraneo. La sicurezza alimentare è una priorità per il nostro Paese che ha contribuito a porla in cima all'agenda internazionale e con la FAO faremo il massimo per scongiurare una catastrofe alimentare globale. Grazie.